Siamo con Cristian Barberini al termine di Roma City Civitanovese. Cristian, oggi c'è solo da sorridere. C'erano forse un po' ancora le scorie e il timore per la sconfitta contro il Sora, maturata in quella maniera che tutti ci ricordiamo, il pareggio contro il Teramo. Oggi grande solidità, grande concentrazione, magari al discapito di qualche occasione in meno. Sì, finalmente è arrivata questa vittoria importantissima, è arrivata comunque lottando e mettendo tutto, mettendoci l'anima, perché comunque abbiamo fatto secondo me un buon inizio di campionato, peccato per gli ultimi cinque minuti con il Sora, perché veramente adesso avevamo tre punti in più, però comunque va bene così, continuiamo a lavorare con questa bella vittoria, magari qualche occasione in meno, però abbiamo dato la dimostrazione di essere molto compatti e siamo molto, 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 molto contenti. È uno step successivo. Le dimostrazioni del gruppo compatto, ne abbiamo parlato anche con il mister, è anche rappresentato, quindi lo ripropongo anche a te, dall'abbraccio finale a fine partita. Sì, no, ci tenevamo tantissimo, sia per noi, per il gruppo, per il mister, siamo molto coesi e per noi era importantissimo, era un qualcosa che cercavamo e fortunatamente è arrivata questa vittoria, ma siamo una famiglia nel vero senso della parola. Adesso testa al prossimo impegno contro il Termoli, tre punti finalmente in cassa, questo può aiutare anche la squadra a lavorare con più serenità adesso, sicuramente. Sì, sì, sicuramente un po' più sereni lo siamo, però comunque abbiamo una trasferta difficilissima, come ogni partita lo sta dimostrando il campionato, risultati strani e noi andiamo a Termoli per vincere, poi comunque la partita sarà complicata e tutto, però lavoriamo al massimo per riuscire a portare i tre punti a casa. Anche oggi grande prestazione, tra i migliori in campo hai lottato su ogni pallone e stai attraversando un buon momento di forma. Grazie, io sto cercando di dare il massimo per la squadra, mi metto al servizio dei compagni e cerco di dare il mio meglio sia in fase di non possesso che di possesso. Può fare sempre meglio secondo me, però va bene così, finché ci sono questi risultati, la vittoria va bene. Grazie Cristian. Grazie a voi. Grazie a voi.